3, 2, 1 Perché portare gli occhi al cielo e rendersi conto di quanto immensi possono essere i nostri sogni è meraviglioso! Davvero! Ma ogni tanto distogliere lo sguardo e guardare la realtà è necessario. Io l'ho fatto, un giorno ho guardato in basso, e questo è quello che ho visto. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!